allora ragazzi bentornati in questo nuovo video dove parlo proprio voglio andare a parlare di questa cosa del quarter four dell'ultimo quarto dell'anno proprio perché mi sento anche un po in dolere di farlo visto che ci sono un sacco un sacco di persone che non sanno effettivamente come gestirsela questo quarter four questo ultimo quarto dell'anno quindi in sostanza quarter four vuol dire comunque ultimo quarto dell'anno quindi mesi di ottobre novembre dicembre e molte persone molti dropshipper molti aspiranti dropshipper o comunque persone che cercano di approcciare il mondo online per cercare di vendere prodotti eccetera non sanno effettivamente cosa fare quindi ho detto in questo video vado a parlarne un po più approfondito così almeno da far aprire un po gli occhi soprattutto a tante persone e prima di andare a su qua del video annuncio il vincitore per i per chi voi delle scorso video dei 50 euro che lo lascio qua da qualche parte e scrivi appunto su instagram così ti posso mandare il tutto a e anche appunto in questo video come in ogni video faccio un giveaway di 50 euro e per vincere appunto questi 50 euro basta che metti like a questo video ti iscrivi a questo canale e mi lascio un commento qua sotto nei commenti inerente al video insomma tutto quello che riguarda il dropshipping l'e commerce alla vendita online e il business online ecco quindi ho voluto fare questo video un pochettino più un po più parlato alla fine senza essere troppo tecnico più che altro sul fatto di andare a svegliare veramente tanto le persone su cosa sarà questo quarter for su cosa sarà realmente questo ultimo quarto dell'anno per quanto riguarda il mondo online del dropshipping dell'e commerce insomma la vendita online che sia di prodotti o servizi soprattutto dei prodotti e riflettiamo proprio su questo allora perché volevo andare a parlare di questo e mi rivolgo soprattutto a quelli a quei soliti magari anche imprenditori che hanno un'attività locale che hanno un'attività offline e che non si svegliano veramente non capiscono effettivamente di come ci sia una reale evoluzione del mercato e di come sarà anche permanente questa cosa partiamo dall'inizio ok periodo covid comunque periodo pandemia eccetera eccetera e cos'è che è successo semplicemente lockdown un sacco di attività chiuse un sacco di attività locali come possono essere ristoranti negozi fisici eccetera eccetera molti di loro sono andati in fallimento molti di loro sono andati sono andati in bancarotta o perché erano veramente indebitati fino al collo quindi non riuscivano più a sostenere nemmeno le spese per l'affitto per o per andare a pagarsi le bollette la cosa è veramente allarmata quindi si capisce benissimo di come sono messe realmente le attività locali e comunque come sta messo il b2b in generale a livello a livello offline ok quindi riflettiamo molto su questo già con la con la uscita di un sacco di articoli che ne parlano boom più 71 per cento dell'e commerce più 26 per cento più 24 per cento insomma numeri a parte che alla fine ognuno scrive quello che vuole negli articoli però bisogna riflettere sul fatto che l'e commerce ha realmente ma veramente ha avuto un boom della madonna nell'ultimo periodo questo non tanto per il covid il covid e l'ultimo periodo a quindi 2020 è stato semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso quindi se hai visto realmente come le attività offline andavano sempre di più a perdere ok e di come effettivamente bisogna andare online perché ora come ora se un'azienda non si digitalizza va a finire che va in fallimento ok anche i ristoranti ormai tutte le persone vanno magari in un ristorante anche abbastanza carino cos'è che fanno mettono la foto la mettono su instagram la mettono nelle storie taggano eccetera eccetera quindi se un'attività offline che può essere un ristorante che può essere un locale che può essere qualsiasi cosa di questo tipo anche un negozio ok se effettivamente non è digitalizzata e se non ha una neanche una minima presenza online ormai va a finire che va in fallimento quindi che sia in modo diretto che sia in modo indiretto quell'attività offline andrà comunque in fallimento non che per forza andrà in fallimento ma sicuramente chi si va a digitalizzare si va ad avere un passo se non cinque passi più avanti rispetto alla concorrenza quindi da riflettere molto su questo sul boom che c'è stato soprattutto per quanto riguarda l'e-commerce e la vendita di prodotti online proprio perché insomma lockdown le persone non possono uscire e quindi di conseguenza tantissima tantissima richiesta di prodotti online tant'è che l'ultimo lockdown appunto per quanto riguarda il periodo circa febbraio marzo fino a circa maggio ok lì comunque si è stato un lockdown quasi totale se così possiamo definirlo in italia e un sacco un sacco di prodotti anche in dropshipping sono stati altamente altamente venduti e ci sono state persone me comunque compreso assolutamente che ha portato anche un 5-10 per in quel periodo lì parlando proprio di fatturati quindi riflettendo molto su questo bisogna proprio approfittarne di questo quarter four e di come effettivamente il covid e questo pseudo secondo lockdown ok se mai ci fosse o comunque ci sarà eccetera eccetera ma già si può andare ad intravedere qualcosa porterà veramente veramente una crescita spropositata per quanto riguarda l'e-commerce e anche la vendita di prodotti in generale che sia comunque in dropshipping o che sia anche di un e-commerce tradizionale che tu abbia il magazzino che tu abbia l'inventario tuo oppure no quindi come ad esempio uno store in dropshipping puro bisogna riflettere proprio che c'è una grandissima crescita già comunque nel periodo del quarter four c'è molta molta più richieste i fatturati sono molto più alti rispetto al normale rispetto al resto dell'anno quindi bisogna riflettere molto su questo che già il quarter four di PSP porta un aumento di fatturato veramente veramente alto soprattutto nel periodo novembre fine novembre specialmente quando c'è il periodo del black friday e cyber monday eccetera già comunque adesso che ci saranno i negozi fisici chiusi ci saranno i centri commerciali magari chiusi oppure con tante code o tante restrizioni e metti la mascherina e fai la code fai questo e fai quello alla gente comunque si rompe le palle quindi dice perché devo andare a farmi due palle così quando posso andare tranquillamente in un sito per andare ad acquistare vestiti per andare ad acquistare qualsiasi cosa e me lo faccio consegnare comodamente a casa ok quindi riflettiamoci molto su questo riflettici molto su questo se magari sei un imprenditore se sei un imprenditore offline eccetera o se sei magari anche un ragazzo giovane o anche la mia età io adesso ne ho 23 di anni devi riflettere molto sul fatto di come si sta evolvendo il mercato perché effettivamente dopo ogni crisi economica c'è effettivamente un'evoluzione di mercato a volte radicale come può essere in questo caso quindi che sia uno store un'attività un business in dropshipping che sia un e-commerce tradizionale che sia la vendita di servizi che poi dipende da servizio a servizio assolutamente per il tipo di cliente però da riflettere molto su questo perché ci sarà una bomba veramente una bomba nel periodo di anche adesso che siamo metà ottobre però adesso comunque da ottobre fino alla fine dell'anno quindi anche fino all'epifania sarà veramente una carneficina proprio perché sopravviverà solo chi ci metterà effettivamente budget parlando comunque di facebook ads dropshipping eccetera sopravvive solo chi effettivamente testa tanto solo chi scala solo chi ci mette veramente tanto budget quindi da rifletterci molto su questo anche perché giusto qua ho in mano il mio era proprio il mio primo prodotto che avevo venduto in dropshipping me lo sono ancora tenuto tra l'altro non so se si vede è una sorta di... no non si vede è sfocato però è una sorta di braccialetto con sopra un manubrio per la palestra questo è stato proprio il mio primo prodotto in dropshipping che assolutamente non è andato però ci sono un sacco di prodotti che possono effettivamente andare come ad esempio nell'ultimo lockdown un prodotto che è veramente esploso visto che le palestre sono state chiuse sono state proprio tutti i prodotti inerenti al fitness questo perché ovviamente le persone e gli appassionati di fitness non possono andare in palestra visto che le palestre sono chiuse quindi cosa possono fare? possono andare ad acquistarsi attrezzature e cose varie per la palestra per andare ad allenarsi in casa ok sono andati veramente a ruba un innalzamento incredibile delle vendite per quanto riguarda manubri, attrezzatura sportiva per la palestra kit, rack e bilancieri tutte queste cose qua proprio per fare palestra in casa ad esempio un prodotto che è esploso nell'ultimo lockdown sono stati gli elastici lo lascio magari qua da qualche parte lo screen gli elastici per allenarsi proprio in casa qualcosa di semplice che costa poco non costa tantissimo come magari un attrezzo da migliaia e migliaia di euro quindi è andato veramente veramente tanto quindi devi rifletterci molto su questo se ci fosse nel caso ci fosse un altro lockdown che tipo di prodotti potrebbero andare? se non ci fosse un altro lockdown che tipo di prodotti potrebbero andare in questo quarter four? ok magari prodotti ad esempio per regali natalizi possono essere ad esempio giocattoli se nel caso di un lockdown possono essere anche altri tipi di attrezzi per la palestra possono essere prodotti da usare in casa possono essere dei prodotti effettivamente per tenere caldo avevo fatto anche un video su questo appunto sui prodotti da consigliare avevo consigliato appunto 7 prodotti da vendere adesso in questo periodo qua che la maggior parte sono proprio dei prodotti relativi all'inverno al freddo al mantenere caldo e tutte queste cose qua il problema però di questo lockdown di questo periodo di quarter four quindi ultimo quarto dell'anno eccetera il problema è proprio tutto ciò che sanno questi pseudo dropshipper eccetera che approcciano appunto il mondo del dropshipping e che comunque o magari non hanno lavoro perché magari non riescono a trovare proprio un'occupazione quindi devono per forza cimentarsi nel mondo online lì fuori ci sono un sacco di metodi di guadagno tutte quelle p***te là scusate il francesismo però a volte ci vuole tutti quei metodi di guadagno pseudo metodi di guadagno che alla fine non si arriva da nessuna parte o magari insomma tutte queste cose relative ad alcuni network pseudo insomma multilivello cose strane che io assolutamente non mi piace per nulla e che personalmente sconsiglio ma bisogna occuparsi effettivamente di realizzare un proprio business o comunque se non si ha un business di andare a lavorare per un business online che sia comunque un tipo di business che fornisce prodotti un tipo di business che fornisce servizi ok? qualsiasi cosa di questo tipo assolutamente può andare bene bisogna vedere attività da attività e parlando proprio di dropshipping ho visto proprio che c'è un grossissimo problema che accomuna tutte le persone che approcciano al dropshipping questo perché uno vabbè a parte i vari corsi che ci sono in giro eccetera eccetera spiegano determinate cose che però molte volte sono sempre sempre le stesse cose e quindi di conseguenza tutte quelle persone che vanno a comprare molte volte anche tante persone che vanno a comprare tutti questi corsi molte volte ci sono sempre comunque le stesse informazioni dentro proprio perché sono informazioni ripetute continuamente 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 che però visto che c'è un'effettiva evoluzione di mercato e il dropshipping, l'e-commerce, la vendita e l'acquisto di prodotti online sta veramente cambiando le persone stanno anche cambiando le abitudini di acquisto bisogna adattarsi a questo cambiamento di mercato e tantissime persone che comunque mi contattano su Instagram queste cose qua tra tutte quante sia loro che mi contattano sia comunque ragazzi che hanno voluto farsi seguire da me personalmente perché comunque come vedrai da nessuna parte ti dirò non so che vendo consulenze oppure vendo qual so non assolutamente nulla ma comunque ci sono delle persone che mi contattano privatamente perché vogliono essere seguite da me personalmente e ad essere guidate appunto per realizzare un proprio store in dropshipping per comunque andare a vendere fare ricerca dei prodotti fare le Facebook ads andare a testare scalare i prodotti soprattutto la maggior parte di loro anche ragazzi che sono venuti da me e che poi hanno ottenuto risultati se vai a guardare ad esempio qualche intervista se vai a vedere anche sul mio profilo Instagram che ti lascio magari qua sotto da qualche parte eccetera puoi vedere che comunque molte di queste persone ci sono molte persone che comunque sono venute da me a chiedermi aiuto eccetera eccetera hanno poi ottenuto anche risultati hanno imparato veramente come fare dropshipping in modo serio e tra tutte queste persone sia già i ragazzi che sono venuti da me sia comunque persone che mi contattano e basta perché vogliono qualche informazione perché vogliono hanno magari qualche curiosità eccetera tutte quante veramente tutte quante ho visto che hanno tutte quante un grossissimo problema accomunati tra di loro e che vedo praticamente essere spiegato ovunque ma è una cosa effettivamente sbagliata specie adesso nel quarter four è una cosa sbagliatissima da fare ed è un errore veramente grosso e quindi ho detto io non posso effettivamente continuare uno per uno a spiegarlo uno per uno sia ogni messa a parte che non riesco più proprio a sostenere il ritmo dei messaggi che ricevo eccetera quindi ho proprio delegato anche quello proprio la risposta la risposta ai messaggi in direct eccetera e appunto l'assistenza eccetera infatti tant'è che se mi rispondi su Instagram se mi iscrivi su Instagram probabilmente ti darò il contatto del mio team con il quale potrai andare a parlare comunque avere info vai eccetera eccetera ho deciso di fare proprio una diretta live una sorta di webinar ma io lo chiamo alla fine una diretta live dove vado proprio a spiegare qual è questo grossissimo problema che accomuna tutte tutte queste persone tutti questi ragazzi ragazzi e ragazzi signore e signori eccetera eccetera quello che sarà e che tutti approcciano al mondo del dropshipping ma uno lo trattano proprio come se fosse un gioco ma gioco non è assolutamente perché vendiamo dei prodotti a delle persone fisiche prodotti veri fisici a delle persone fisiche assolutamente quindi è una cosa serissima ed è un business assolutamente serio ma si tratta sempre di e-commerce poi il dropshipping effettivamente è solo un modo di andare a gestire il proprio inventario comunque rimanendo in tema ho deciso proprio di fare questa sorta di diretta live questo webinar di circa un'ora il venerdì 13 novembre alle ore 21.03 e ti lascio appunto qua sotto il link per andare ad iscriverti eccetera e di non mancare assolutamente perché sarà un qualcosa di epico e che ti servirà assolutamente per fare un reale cambiamento da così a così e appunto per fare un cambiamento effettivo tra questo genere di dashboard e di risultati e passare invece a questo genere di risultati quindi se vuoi effettivamente andare a scoprire o perlomeno sapere qual è questo grosso errore che sono sicuro che se tu sei un dropshipper o se stai approcciando al dropshipping se stai cercando o stai facendo dropshipping già da un po' di tempo hai magari ottenuto qualche vendita ma non hai realmente mai avuto profitto non hai fatto utile non riesci ad essere sostenibile e costante per tanto tanto tempo e riuscire a fare questo tipo di modello di business effettivamente la tua vita è qualcosa che ti sostenga allora ti consiglio assolutamente di partecipare a questo webinar di partecipare a questa diretta live che farò appunto venerdì 13 novembre alle ore 21.03 il webinar, la diretta è assolutamente gratuita al 100% quindi non preoccuparti di quello ma ti andrò proprio a spiegare qual è questo grossissimo problema che sono sicuro che anche tu ce l'hai perché tutti quanti ce l'hanno e che non capiscono effettivamente di come ci siano di come ci siano effettivamente delle risposte a molti problemi che vengono portati avanti per tanto tanto tempo e di continuo e non ti consiglio di iscriverti a questa lezione gratuita a questo webinar se comunque pensi effettivamente che il dropshipping sia un gioco se pensi che il dropshipping o almeno hai approcciato il dropshipping come se fosse una sorta di metodo di guadagno e tutte queste puttanate o se approcci al dropshipping come se fosse proprio un metodo di guadagno quindi come vedi in giro spesso e non è assolutamente così anche perché puoi vederlo tramite alcuni risultati che pubblico ogni tanto su Instagram eccetera o magari alcune interviste che vengono pubblicate alcune volte qua sul mio canale e tra l'altro a breve ce ne saranno anche anche altre di interviste e appunto non ti invito ad iscriverti se pensi che il dropshipping comunque l'e-commerce vero e proprio ma fatto in modo serio sia semplicemente un metodo di guadagno facile che insomma crescono i soldi sugli alberi perché non è assolutamente così ma è un business totalmente serio dove si può andare a scalare dove si possono ottenere numeri veramente veramente alti anche numeri si parla di fatturato comunque a 6-7 cifre 5-6-7 cifre poi dipende ognuno c'è chi arriva diciamo c'è chi ci arriva prima i risultati c'è chi ci arriva dopo eccetera eccetera però l'importante è fare le cose in modo serio e sapere effettivamente queste cose perché veramente non capisco di come tante persone non riescono ad aprire gli occhi e di come si fanno scervellare continuamente dalle solite ideologie dai soliti pensieri tutte queste cose qua che però ormai non funzionano per nulla quindi ti invito ad iscriverti appunto a questo webinar a questa lezione gratuita questa diretta che si terrà venerdì 13 novembre alle ore 21.03 e appunto io te l'ho detto poi se ti va di partecipare questo sarà solo a tuo vantaggio se invece te lo perderai perché appunto la diretta live la lezione gratuita sarà solo in live quindi non andrò a fare più questa cosa qua non andrò a pubblicare la replica o farlo vedere continuamente continuamente sarà disponibile solo venerdì 13 novembre alle ore 21.03 e in nessun altro momento quindi per questo ti consiglio di iscriverti se poi non ti iscrivi insomma probabilmente te ne pentirai e quindi poi mi chiederai di farti vedere la replica io ti dirò tranquillamente di no proprio perché non andrò a fare replica quindi sì secondo me ti conviene proprio iscriverti perché sì ti conviene quindi per tutto questo trovi appunto tutti i link qua sotto puoi andare ad iscriverti fare quello che vuoi eccetera eccetera io te l'ho solo suggerito poi insomma fai tu quello che vuoi e cosa importante anche iscriviti al mio gruppo facebook e-commerce virtuoso che ti lascio sempre qua sotto il link il gruppo è totalmente gratuito ti puoi andare ad iscrivere in qualsiasi momento però ovviamente prima è meglio è e dove potrai andare a fare domande chiedere comunque informazioni il mio staff e anche gli altri membri del gruppo ti sapranno aiutare e troverai comunque le giuste risposte alle tue domande tranne questa risposta fatidica che troverai solamente a venerdì 13 novembre su solocosesserie.it e dove troverai anche qualche risultato o comunque condividere i risultati condividere informazioni insomma che sia assolutamente una community pulita che ti puoi sentire anche a tuo agio a casa tua dove puoi effettivamente ottenere le informazioni che però sono realmente valide che ti serviranno veramente nel tuo percorso per quanto riguarda l'imprenditoria il business online la vendita di prodotti online l'e-commerce dropshipping eccetera eccetera quindi sì per questo video è tutto penso di averti detto tutto i consigli te le ho dati poi se non vai a ascoltarli insomma vedrai tu cosa fare dopo delle conseguenze e ci vediamo poi al prossimo video ciao ciao